Un concerto sulle note di Rossini, Verdi e Brahms, con l'orchestra del Maggio Musicale Fiorentino diretta da Riccardo Muti nel Salone dei 500 di Palazzo Vecchio a Firenze, ha messo il sigillo sul primo G7 della cultura, che nel suo secondo giorno ha visto riunirsi i responsabili di grandi istituzioni culturali internazionali, come il Centre Pompidou, la Biennale di Venezia e il British Council, tutti uniti per dare gambe alla dichiarazione di Firenze firmata dai ministri in Palazzo Pitti e che definisce la cultura come strumento di dialogo e tutela del patrimonio minacciato dal terrorismo. E dal capologo toscano il ministro Franceschini ha confermato l'impegno italiano sui caschi blu della cultura. Sono già in campo, siamo il primo paese, l'ha riconosciuto ieri il segretario generale dell'UNESCO Irina Bokova, siamo il primo paese a aver firmato un accordo con l'UNESCO per la creazione di una tax forza nazionale che è già operativa. Sono una parte carabinieri per la tutela del patrimonio, una parte esperti dell'Università del Ministero, archeologi, storici dell'arte. Sono già operativi, hanno anche gli elmeti blu. Al termine dell'intensa due giorni di G7 della cultura che si è svolta tra misure di sicurezza imponenti, il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha annunciato la disponibilità del capologo toscano a contribuire proprio all'esperienza dei caschi blu della cultura, mettendo a disposizione i propri esperti e i propri urbanisti, poi i saluti e il passaggio di testimone al Canada in vista del prossimo vertice internazionale della cultura.